Rosa Barrios Rosa Barrios, uscita di prigione grazie a un prestito di Isaia Pegna, un usuraio che è innamorato di lei, conosce Alessandro Marquez, un giovane professore che per amor suo lascia la fidanzata, Rosalia Alamo. Alessandro, dopo aver chiesto a Rosa di sposarlo, l'abbandona. È molto malato e la sua vita è in pericolo. La ragazza non ascolta le sue spiegazioni e pensando che abbia voluto solo approfittarsi di lei, giura di vendicarsi. Alessandro si reca da donna Carmen perché lei sappia cosa l'ha spinta a comportarsi così. Ma si raccomanda che la ragazza non sappia niente, sarebbe un dolore troppo grande. Il giovane professore viene anche a sapere da Consuelo che lei è la vera madre di Rosa. Intanto Isaia, sempre più neguai con Riva Davia per un affare andato a monte, per salvarsi la vita decide di uscire dal paese, ma Teodoro, suo braccio destro, che dovrebbe aiutarlo ad espatriare, lo tradisce. Le condizioni di salute di Alessandro peggiorano. Sollevato dall'incarico di insegnante, a causa delle lamentele di alcuni studenti, mentre torna a casa sviene ed è ricoverato in ospedale. Isaia intanto viene ucciso e i sospetti si accentrano su Teodoro. Magali è presente al delitto e disperata si reca da Consuelo, dove trova anche Don Adolfo. La ragazza lo accusa di essere responsabile della morte dell'unico uomo che abbia mai amato. Infatti Don Adolfo si era rifiutato di dargli i soldi che gli avrebbero permesso di salvarsi abbandonando il paese. Tu ves, no pudo ser, tal vez hay que perder, y en el camino que trazaron a tu vida no está la mía. En fin, no hay más que hacer, tal vez si renunciar será la triste solución de esta agonía, Nuestra agonía. Que era Dios, que te ilumine y al final guie a tus pasos, para que olvides el porqué de este fracaso, que un día vuelvas a dormir entre mis brazos. Que era Dios, que era Dios, que una mañana al despertar veas mis ojos, la palidez y la dulzura de tu rostro, para apretarlo hasta morir entre sollozos. Que era Dios, que te ilumine y al final guie a tus pasos, para que olvides el porqué de este fracaso, que un día vuelvas a dormir entre mis brazos. Que era Dios, que una mañana al despertar veas mis ojos, la palidez y la dulzura de tu rostro, para apretarlo hasta morir entre sollozos. Que era Dios, que era Dios, que era Dios, que era Dios. Dios, que era Dios, que era Dios, que era Dios. No, anzi, tutto il contrario. In fondo era il suo destino. Perseguitava la povera gente, voleva chi non lo desiderava, falsificava tutto. Ah, già. Ingannava tutti. Era tutto un gioco di convenienza e di affari leschi. Il suo destino era di morire come sempre vissuto. Certo. Ucciso da altri delinquenti. Certo, certo. È così. Ah, caro Asdrub, comunque ora io mi sento molto sollevata. Dio mi perdoni. Il fatto di sapere che non disturberà mai più Rosa mi tranquillizza davvero tanto. Io invece mi domando che fine avrà fatto l'assegno che ho dato a Teodoro. Ah, già. Lascia perdere. Come no? Fossi in te, cercherei di dimenticare tutto. Queste sono faccende molto sporche. Conviene starne alla larga il più possibile, mia cara. Beh, io esco. E dove vai adesso? A parlare con Magali. Con Magali? E perché? Beh, voglio parlare un po' con lei. Ma sei pazza, Rosa? Non capisco per quale motivo. Tu devi fare attenzione, mia cara, e startene molto lontana da lei e da tutto il resto. Lo sai. Qui i due erano legati. ti compichi la vita. No, mamma, cerca di capire. Io so che lo amava e starà male. Arrivederci. Sta tranquilla, lasciala stare. Mamma. Anche se muore l'erba cattiva, questo non significa che debbano sparire anche i buoni sentimenti. La nostra Rosa spregherà solamente il suo tempo. Tutto qui non le succederà niente. Darretta a me e sta tranquilla. Senti, Magali, lo so che non è il momento più adatto per farti certe domande, però io non riesco a rendermi conto. Ma come hai potuto amare così tanto quell'uomo che ti ha fatto solo del male? Non lo so, Beatrice. Tu credi che mi abbia fatto solo del male? Beh, in parte forse è vero. Però devi cercare di capire lui è stato il mio primo amore e in un certo modo mi ha aiutato. Aiutarti per lui significava coinvolgerti in quello squallido ambiente. Quello era il suo ambiente, Beatrice, l'unico mondo che conosceva. In fondo lui sapeva che eravamo uguali, che vivevamo nello stesso mondo e delle stesse cose. Ascolta, fidarsi di me e mischiarmi nei suoi affari era un modo di amarmi. Ti amava soltanto perché gli facevi comodo? Sì, io lo capivo. Capivo la sua angoscia, il suo egoismo, il suo bisogno di fama e di denaro e lo aspettavo sempre. Lo amavo, lo aiutavo. Lui era tutto per me. Il fatto che venissi a trovarti solamente quando si trovava con l'acqua alla gola è molto significativo, non credi? Sì, è vero. e questo suo ultimo gesto per me è stato molto importante. Gli sarò grata per sempre di questa prova di fiducia verso di me. Avanti! Salve. Ciao Rosa, come va? Bene. Stammi un po' a sentire, carina. Che sei venuto a fare qui? Vorrei parlare con te, Magali. Io non ho proprio niente da dirti. Per colpa tua hanno ammazzato Isaia, per colpa tua lo hanno assassinato. Fuori di qui, fuori! Magali. Incredibile. Ha fatto veramente una fine orrenda. Povero Isaia. La fine che si meritava, Consuelo. Con una vita del genere... È stata una vendetta. Certo che morire in un modo così, così violento... io non voglio dire di essere contento della sua morte. Ma neanche mi dispiace. Era sempre una canaglia, Consuelo. Scusami se te lo dico, ma era una canaglia. Hai visto come ci ha trattato? Il ricatto che voleva farci? E tutto questo sapendo che Rosa era tua figlia. Per lui era diventata come un'ossessione. Non la lasciava vivere in pace. La minacciava continuamente. La ricattava. Sì. Ma adesso è morto. E non le darà più fastidio. Adolfo, penso che dopo quello che è successo non ci sia più bisogno di dire a Rosa la verità, no? L'unico timore era che glielo dicesse lui, ma ora è morto. Consuelo, dimmi una cosa. Perché ti comporti così? Perché parli in questo modo? Come se soffrissi per la morte di quell'uomo. Perché? Non dimenticare, io ho avuto una relazione con lui. Ho diviso la mia vita. Dovresti capire che questo mi addolora. Sì. Però non mi sembri soltanto colpita. Non sarà che provi ancora qualcosa per lui? Ma per favore, Adolfo. Per me Isaia è morto quando ho scoperto il male che stava facendo a mia figlia. Ti prego. E allora, perché ti dispiace tanto la morte di quell'uomo? Senti, Adolfo, ti ho detto che mi dispiace, che mi impressiona. Certo, non posso negarlo. Isaia è stata una persona importante nella mia vita per troppi anni. Non posso cancellare tutto con un colpo di spugna. È logico che mi dispiace. Allora, provi ancora qualcosa per lui. Non mi fai intendere, Adolfo. E per favore, non ti ingelosire. Io sono stata molto sincera con te. Ti ho raccontato tutto della mia relazione con lui. Era una persona che è stata legata alla mia vita per molti anni, nella quale io avevo riposto tutta la mia fiducia, tutto il mio bisogno di affetto, tutta la mia amicizia. E mi è stato vicino nei momenti difficili. E io con lui ho diviso delle cose, delle cose anche belle. Sì, anche belle. Tu non puoi capire questo. Sì, ho smesso di amarlo, è vero. Ho smesso di amarlo. Senti, quell'uomo stava per distruggere la vita di Rosa. Cosa sarebbe stato di lei se il destino non fosse intervenuto? Forse sarebbe potuta diventare sua moglie. No, no, no. Io so che lui gli ha fatto del male. Lo capisco perfettamente. Anche a me ha fatto del male. Però, non posso smettere di pensare che sia morto in quel modo, capisci? Non posso dimenticarlo. Salve. Come si sente? Meglio, grazie. Il dolore alla testa non lo sento più tanto. Sì, le stiamo somministrando un calmante molto potente. Capisco. Dottoressa, le chiedo per favore di essere franca con me. È importante che io sappia qual è la situazione della mia malattia. Io desidero che lei mi parli sinceramente. Non sono un bambino e ho bisogno di sapere la verità. Sì, hai ragione. Le parlerò con franchezza. Il lupus è una malattia che si manifesta in vari modi. In certi casi provoca dei dolori alla testa molto forti e violenti. Tanto forti da provocare degli svenimenti. In seguito può provocare una forte anemia che va controllata. Possono presentarsi anche altre manifestazioni esterne ma per ora non ci interessano. La caduta dei capelli e le macchie rosse sulla pelle? Sì, però quello che ci preoccupa ora è bloccare l'insufficienza renale. Dobbiamo impedire che la malattia attacchi gli organi interni e controllare l'anemia. Dottoressa, mi dica quando potrò tornare a casa? No, questo per ora non è possibile. Il calmante che le ho dato le ha tolto il dolore però devo tenerla sotto stretto controllo. Può tornarle una crisi. Cerchi di avere pazienza. Lo so che è difficile ma deve farlo per il suo bene, mi creda. La sua malattia è molto grave e può essere letale. Tornerò più tardi. D'accordo, grazie. Questa malattia è mortale. È inutile che mi faccia delle illusioni. Morirò presto. Loro cercano di farmi credere che può esserci una possibilità di salvezza ma non è sicuro. Rosa, amore mio, sapessi quanto desidero averti qui accanto a me. No, no, io non posso costringerti a soffrire con me ma non voglio neanche abbandonarti e lasciarti dubitare del mio amore. Hai parlato con la dottoressa? Sì, ci ho parlato. Mamma, ho bisogno di un favore. Sì, amore mio. Va a cercare Rosa. Ti prego, devo parlarle, è molto importante. che la veda. Dille di venire qui. Ti sorprende vedermi qui, Rosa? Non dovresti. Io e Consuelo siamo carissimi amici. Beh, sì, mi ha sorpreso ma niente di particolare. come stai? Bene tesoro, tu? Bene, come mai qui? Beh, sono venuta a portarti una notizia. Ah, il fatto di Isaia. Sì, lo sapevi già, immaginavo. Questo tipo di notizie volano. Beh, non so, credevo ti dispiacesse molto di più. È vero, ma con la vita che faceva uno poteva anche aspettarsela una fine simile. Non possiamo pretendere che le cose vadano sempre come vogliamo noi. e questo è accaduto a Isaia. La sua caparbietà non gli ha mai permesso di ascoltare i consigli. Sì, tutti commettiamo degli errori nella vita. L'importante è ravvedersi al momento giusto e avere il coraggio di cambiare dentro. Comunque, Rosa, tu devi sentirti tranquilla. Adesso finalmente ha la certezza che non potrà più infastidirti e questo è un sollievo per tutti quanti. Ma io veramente non lo so. Ma come? Come non lo sai? Qualcosa ti preoccupa? Sì, è così. Sono andata da Magali perché pensavo che stesse molto male e lei mi ha detto che Isaia è stato ucciso per colpa mia e io non riesco a capire che colpa ne ho io, Consuelo. Meno male che hanno ucciso quel delinquente se lo meritava proprio. Sì, sì. Guarda, però a me ha fatto anche un po' pena, sai? Ma chi di spada ferisce di spada perisce. Questo è vero. Comunque è una liberazione per tutti. Pensi un po', donna Carmen, non darà più fastidio a Rosa. Sì, sì, grazie a Dio e neanche a me. Figurati che quella donna Consuelo e quella Adolfo mi avevano chiesto di raccontare tutta la verità a Rosa perché Isaia li stava ricattando. Pensa un po'. E ora? Beh, ora non sono più costretta a raccontarle niente per fortuna. Ormai è una storia chiusa. Invece, cara mia, secondo me dovrebbe dirglielo. No, io. Per vederla soffrire, no, no. Per complicarle la vita, no, mio caro, no, no. Ora con la storia di Alessandro soffre già abbastanza. Perché darle altri dispiaceri? No, per carità, neanche persone. Bene, io vado. Aprimi per favore, vediamo un po' chi sarà adesso. Buonasera. Buonasera. Salve. Desidera, signorina? Abita qui Rosa Barrios? Sì, sì, ma adesso non c'è. Vuole accomodarsi? Beh, sì, grazie. Posso offrirle un caffè, una bibita, non so. No, grazie, signore. Bene, donna Carmen, io adesso me ne vado. A presto. Va bene, Ciao, grazie. Buonasera. Chiudi la porta, per favore. Sì, certo. Lei è un'amica di Rosa? Beh, ecco, non proprio. Sono una conoscente, signore. Ah. Tarderà molto sua figlia? No, sarà qui da un momento all'altro. Prego, si accomodi. Ciao, mamma. Ciao, Carmen. Ah, Rosalia, che ci fai qui? Sono venuta a parlarti di Alessandro. Io non voglio parlare con te, tantomeno di Alessandro. Guarda, io sono stufa di questa storia, quindi per cortesia va fuori, vattene, Rosalia, esci da casa mia. Ma che ti prende, cara? Perché tratti così la signorina? Perché non capisco che è venuta a fare a casa mia. Per questo. Sicuramente sei venuta a dirmi in faccia che Alessandro sta con te, vero? Sei venuta per questo, no? Se le cose sono andate così, è per colpa tua, capito? Io ti ho avvertita, ti ho detto di lasciar perdere Alessandro che è mio. Sarai contenta adesso? Contenta io? Senti, meno male che non mi sposo con un tipo come Alessandro, meno male. Ti sei resa conto, coca, che Alessandro voleva solo divertirsi con te. Scusa, ma non capisco di che stai parlando. No, invece lo sai perfettamente. Sei stata proprio una scema. io te l'ho detto quando sono venuta a parlarti a scuola di toglierti di mezzo e lasciarlo in pace perché tanto lui si sarebbe sposato con me. Senti, fammi il favore di uscire di qui, fuori da casa mia. Sai come sono gli uomini, mia cara? Hanno la fidanzata per sposarla e le altre come te per... No, aspetti un momento. Non accetto che in casa mia qualcuno venga a insultare mia figlia. Lasciala perdere, mamma. Neanche per sogno. Lasciala sputare tutto il veleno che ha in corpo, lasciala parlare. Mi dispiace per lei, signora, che abbia una figlia come questa. Cosa? Ma... Senti, fammi il favore di andartene subito di qui e ti dirò un'altra cosa. Il tuo caro Alessandro te lo regalo impacchettato e infiocchettato dentro un enorme uovo di Pasqua. Se tu e lui vi siete presi gioco di me, anche io ho riso abbastanza di voi due. Io ne ho tanti di uomini migliori di Alessandro, capito? E non ho bisogno di andare in giro mascherata come te per rimorchiare qualcuno. Per favore, basta. Ma che cos'è questa cosa? Per favore, un corno che se ne vada. Non gredare in questo modo, Rosa. Per favore, signorina, se ne vada. Noi siamo poveri, ma abbiamo molta dignità. Se ne vada. Io mi auguro che tu abbia il buon senso di allontanarti da Alessandro per sempre. Basta che te ne vai da qui. Certo. Fuori. Sicuro che me ne vado. Fuori da casa mia. Li odio, mamma. Li odio tutti quanti. Basta, maledetta. Mamma mia. Guarda, quella Magali è incredibile. È veramente capace di tutto. Io non capisco perché abbia detto a Rosa che Isaia è morto per colpa sua. Per quale motivo? Questo non lo capisco. No. Forse è presa dalla disperazione. Beh, meno male che non ha rivelato tutto il resto. Che siamo i suoi genitori, sarebbe stato il colmo. Ma non credo che glielo dirà. In fondo lei cosa ci guadagnerebbe a dirglielo? E chi lo sa. Forse perché non gli hai dati soldi per chiudere la bocca a Isaia e adesso vorrà ricattarci. Ma sta tranquilla, Consuelo. Senti, non voglio continuare a parlare di un morto. Non voglio più sentire nominare Magali e non voglio parlare di niente che abbia relazione con questa gente. Perdonami, Adolfo, hai ragione, però... Vedi, io sono così angosciata da quando è venuta Rosa e ci ha detto che quella le ha dato la colpa della sua... No, no. Temo che quella disgraziata le dica tutto, capisci? Ti prego, adesso basta, eh? Sì, va bene. Può darsi che sia come dici tu. E poi cosa ci guadagnerebbe? Magali è rinvischiata con Isaia, non con Rosa. Già, adesso smettiamola, d'accordo? Senti, Consuelo, devi tranquillizzarti. Tutto questo sta diventando come un'ossessione. Calma ti, amore. Sì, hai ragione. Sono talmente scossa che non riesco a togliermi Isaia dalla testa, credimi. Ah, scusami, amore mio. Ti prometto che non ci penserò più. Così va meglio. Ascolta, noi due abbiamo tante cose di cui parlare. È vero. Oh, Adolfo, non ce la faccio, non ce la faccio. Lo so che ti dà fastidio, ma non posso fare altrimenti, sono così. Prima leggo la notizia sul giornale, poi viene Rosa e mi racconta il fatto di Magali. Io vivo col terrore che quella disgraziata le dica tutto. So, amore, vieni qui vicino a me. Calmati un po' fra le mie braccia, va bene? Amore, sembri una ragazzina spaventata. Come quella prima notte, ti ricordi? Sì. Ora sono qui io, vicino a te per proteggerti. Io capisco cosa provi. Scusami, tesoro. Comprendo la tua agitazione, ma sono sicuro che col tempo ti passerà. Dimenticherai questa brutta storia. Io farò in modo che la dimenticherai. Te lo prometto, Consuelo. Vedi, Adolfo, io lo so, ma... Ascolta, io ti amo, Consuelo. Sono molto innamorato di te. Questa è l'unica cosa a cui devi pensare. L'unica. Dai, ti prego, fammi questo piccolo favore, Marcello. Vai a casa di Rosa a cercarla. Dille che Alessandro vuole parlarle. Sì, va bene, ma quella ragazza deve essere furiosa. E non ha torto, lo so. Alessandro non avrebbe dovuto lasciarla in quel modo senza spiegarle la verità. Però ti prego, vai. Io non voglio lasciarlo solo qui. Avanti. Va bene, non ti preoccupare, Angelo. Sì? Grazie, caro. L'hai mandato a cercarla? Sì, così rimango qui con te. Però dimmi una cosa, amore. Perché hai preso questa decisione, eh, Alessandro? Dopo aver parlato con la dottoressa. Tu avevi ragione. Non avrei dovuto lasciarla in quel modo. Certo che no. Avrei dovuto comportarmi diversamente, essere più sincero, dirle che sto per morire. Dio mio, per favore, Alessandro, non parlare così. Perché no? È la verità, mamma. Perché dovrei fingere? Non sarà oggi, forse neanche domani, però da un momento all'altro succederà. È prima che questo momento arrivi. Voglio parlarle. Io desidero che... che non abbia un cattivo ricordo di me, che non pensi che sia stata una canaglia, che l'abbia ingannata, che ho giocato con i suoi sentimenti, che ho calpestato il suo orgoglio, come mi ha detto. Io desidero... che lei conservi un bel ricordo di me e che mi perdoni. Mi perdoni per averla fatta tanto soffrire. Bene, quando verrà, chiarirete tutto. Sta tranquillo. So che sta soffrendo. Perché... so che mi ama tanto. Sai, mentre mi insultava al bar vicino a scuola, mentre diceva di odiarmi, io so che cosa stava provando. si era sentita... offesa e soffriva tanto. Solo per questo mi ha detto quelle cose. Ah, sono felice che tu abbia preso questa decisione, amore mio. Perché vedi, quando si ama... si ama nella buona e nella cattiva sorte. E per una donna... è molto doloroso che non la credano capace di condividere i momenti difficili. Sì. Lei ha tutto il diritto di stare qui, insieme a tutti quelli che ti amano. Lo so. Io volevo evitarle la sofferenza di questi giorni di lenta agonia. Ma sono anche certo che... lei non si perdonerebbe mai di non essermi stata vicina ora. Abbiamo passato dei momenti talmente belli. dei momenti talmente felici. Talmente importanti per tutti e due. Sai, mamma... lei ha sofferto tanto. Non ha mai conosciuto suo padre. E io non voglio che questa storia si ripeta. L'amo troppo. E non voglio farla soffrire. Non ha mai. No. No No Grazie a tutti.